Quello che ci motiva tantissimo è l'essere un appuntamento fondamentale nella regione per il settore del beauty e del benessere, quindi una piattaforma alla quale i brand forti del settore non possono mancare, questo per noi è motivazione a cercare sempre innovazione e modi per attrarre espositori e visitatori. Sull'onda di questo cerchiamo di essere sempre con le orecchie e gli occhi ben aperti alle esigenze del settore nella regione e quindi introdurre mostre speciali o eventi che all'interno dell'evento Beauty World diano un valore aggiunto alla manifestazione. Faccio un esempio, a partire dal 2016, quindi due anni fa, è stato introdotto all'interno della fiera una mostra speciale che si chiama Quintessence dedicata alle fragranze artistiche, tutte quelle fragranze di nicchia che in questa regione poi sono particolarmente apprezzate e perché si era notata un'esigenza proprio sia da parte degli espositori ma anche dei visitatori. È stato un successo, abbiamo visto giusto perché questa mostra speciale in due anni si è già raddoppiata come dimensioni e sull'onda di questo cerchiamo di aggiungere ogni anno sempre qualche evento nell'evento che attragga sempre più pubblico ma anche espositori stessi.